Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video! Sono tornata con mio fratello per fare la Baby Rostati Challenge! E mi state chiedendo perché siamo messi dentro, perché c'è giusto un po' di pioggia, appunto perché c'è un pochino ve la faremo vedere. Ecco, guardate, c'è giusto un po' di pioggia! Giusto un po' di pioggia, eh! Non piove lo staccio, no! Odio l'inverno, odio l'inverno! Qui c'è un po' di pioggia, saluta! Ciao! Muta! In realtà non lo posso stare, l'ho coltretta! Ok, quindi avete visto che c'è un po' di pioggia e quindi ci sono... Giusto un pochino, eh! Quello che serve! Sì! Vabbè, detto questo comincia... Aiuto! Incomenziamo! Allora, Michele, sei pronto? Sì, no, non sono pronto, no! Ok! Raga, dovete piazzare subito un mi piace bombo! Baby o scatti? Si può toccare, fammelo toccare! No, non si può toccare! Si può toccare! No, non si può toccare perché altrimenti alcuni sono troppo facili, non capisci subito! Dai! Non lo so... Posso almeno adorare! Eh? Posso almeno adorare! Odore! Solo alcune cose, però... Scalto! Hai scaldato l'acqua! È proprio io! L'acqua non mi piace! Era come in credente buono! L'acqua non mi piace! Va! Ok! Io non riesco le cose che ho state! Chiudo gli occhi! Fortissimo, Michele! Mangi o scarti? Fammi toccare! Non mi hai fatto toccare! No, puoi toccare! Tanto che alcune cose non le... Faglio adorare! Nel meno! Non lo puoi adorare perché è troppo facile! Mangi o scarti? Mangi o scarti già! Cioè bevi o scarti? Ho paura che mi ha la! Michele, il miele si mangia, non si beve! Non lo so... Maglio! Alleluia! Cosa? Alleluia! Cosa? Miele! Ma dai! Inoltre il miele si beve! Dai! Ti ho! Bagno il tuo dito! E io no! No! Mi rifiuto raga! Michele, io l'ho fatto! Tu mi hai detto che non puoi essere il miele, ma ti si mangia, ed è il bello! Signore, si mangia il miele, non è una cosa da bere! Non è vero! Il miele non si beve, è denso! Non è denso, dico... Dai! Eccomi la mantella! Non è vero, sei! Dai! Oh! Sono da punta! No! Michele, io l'ho fatto, dai! Oh! Dai! Aspetta solo per voi! E vedere al pubblico che bambino il treno! Dai, dammelo! Dammi il dito! Dammi il dito! Dammi il dito! Vabbè! Vediamo! No! Non ci riesco! Michele, sono la punta! Non fa schifo, schifo! Dai! Dai, Michele, ma tu l'hai preso! L'ho preso! Michele, non la devi prendere così poco! E me lo sono mandato assai! Assai? Sì! Lo faccio io, basta! Ha bagnellito, quindi dai! Michele, lo devi... Non la prendi! L'ho fatto! Oh! Ah, sì, ragazzi, ho fatto prendere il mio! No, è troppo! Povera schifo! Leccalo, leccalo! Leccalo il petto e lo faccio qua, non lo devi leccare tutto! Avvicinati, Michele! Ragazzi, sono vero! Dai! Leccalo, sei un uomo! Sei un uomo, leccalo! No! Michele! Non ci ria! Da, che ti sta scolando! Ammi! Lo faccio, lo faccio! Solo per voi, raga! Dai! Ammoni! Ma ancora è toccata da lì! Sta scolando, ti smoni! Mi ha portato l'era di un balli! Mi ha giocato la lingua! Ho trovato la mia rigencità! Ti odio! Ti avete più sotto nei commenti? Sì, il miele! È una cosa da ammelo! Da bere! Ho da mangiare! Da bere! Perché la voglio! Vabbè, comunque sia la be... Le hai preso lo stesso, quindi... Ormai... Non importa! Aia! 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 Ma sei normale che viene i morsi! Sì! Ma sei deficiente! Proprio! Dai! Dai! Chi li ha gli occhi! Perché ti prendo un bisogno di un sabbolo! E che lo so! Lo scoprirei, se no più bello! Sempre se ci riesci! Ti prego, Priscilla! Perchè? Purissimo, purissimo, purissimo! Bevi a scarti! Bevi a scarti! Eh? Io non ti ho detto! Dai! Posso toccare? E' un bicchiere! Sì! Perchè metti tutto il bicchiere? Perchè sì! Dai! Mangia scarti! Mangio! Zucca! Yeee! Avete le ho messo alla carta stagno? Ma è pellicola! Perchè altrimenti riusciva! Fuori! E questo non poteva accadere! Smuoviti! Un torso! Cos'è? Cos'è? Tutto tutto! Ah! Dai! Per gli occhi! Avvicinati! Ah non è una cosa buona! Ah avvicinati! Raga! Troppo paura! Scarto! Aspetta! Ancora non ho detto niente! Devo farlo vedere Che cos'è Agli... Aspetta! Ok! Dai! Fammi toccare! Un attimo! Mi che sei impaziente! Oh quanto tempo vuoi? Vuoi tre anni? Non lo so! Fammi toccare! Dai! Che è sta roba? E tu me lo devi dire! Mangia scarti! Mangio scarti! Beh bevi scarti! Lo fammelo ritoccare! Ma è un bicchiere? Sì! Perché è tutto in bicchiere? Basta bicchiere! Mangio bevi scarti! Scarto! Cos'è no? Acqua e picarbonate! Basta! La sfida mi perseguita! Lo sono mangiato solo una cosa buona! Lasciate like! Chiedi gli occhi! Sono una cosa buona! Chiedi gli occhi! Lo sono mangiato! Lo posso farmi toccare! Michele se questa la scarti l'altro te la devi mangiare per forza! Lo so farmi toccare! No perché questa è troppo facile! Fammi dolore! Dola! Mangia scarti! Non so! Bevi scarti! Mangio! No è bevo! Sì! Che cosa! Dai mettitelo nel dito! Mettitelo nel dito! Aspetta avviciniamoci qua perché questo... Ok! Dai! Cioccolato! Buono! L'altro te lo devi mangiare! Ed è brutto! Sì! Lemon! Vabbè dai! Alla fine! Si può del lemon! Alla fine tanto brutto non ha! Dai! Apri la bocca! No! Non tanto! Ok! Dai! Apri la bocca! Un goccio! Ah! Apri! Oh! Ci siamo dentro! Com'è? Dai! Mi bevo pregno per la tua sorte! Mi hai messo tanto! Bevuto! Non è vero! Te lo faccio io! No! Allora guarda! Allora mi uccido! Adesso io! Com'è? Buono! Buonissimo! Raga! Potete scrivere se mia sorella è pazza oppure no! No perché ho il mio dubbio! È buonissimo! Vai! Dai! Prendete dai miei occhi! Ma tu sei pazza! Pazza sei! Comunque! Basta! No dai! E' terminato! Spero che vi sia piaciuto! La c'è il commento di un piaccio! Per commento e iscrivetevi al canale! E' il Nespeak! E' niente! Ciao! Dammi il Nespeak! Io ho finto il Nespeak! Inchiale attento! Basta! Oh! Era ancora cessa guada! Vabbè! Comunque ciao! Lasciate tanti like! Ciao!